la prigimessa Elsa è pronta fai così e il divanetto comparirà comparirà no Sofì non credo sia fatto anche per te sei troppo grande allora tolgo il castello va bene lo vado a dare a un'altra bimba ciao a tutti è lei Sofì e lei è Greta e insieme siamo in me contro te benvenuti in un nuovo video insieme alla nostra cuginetta preparatevi perché quello di oggi sarà un video incredibile abbiamo preso per Greta delle cose fuori di testa che le piaceranno tantissimo e sarà tutta una sorpresa per lei aiuto aiuto sta accadendo aiuto 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 cosa vuoi fare di nuovo di nuovo vai forte forte o piano 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 ok lei è piaciuto piano va bene lei ancora non lo sa ma ci abbiamo intenzione di trasformarla in Elsa avete capito bene le costruiremo un castello e la faremo diventare la principessa delle nevi Greta sei pronta per la sorpresa si è andata via vieni qua a te piace frozen si vuoi essere Elsa? si si di Anna Diana? Anna è la sorellina vabbè 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 è un vestito davvero in miniatura è piccolissimo praticamente lo potrei usare come magliettina è mezza maglietta ci travestiamo? sarai bellissima vabbè allora togliamo la maglietta sei pronta? si vai oh che carina mi sentino mia carina prendiamo il vestitino e vieni qua ehm dove si mette ah così metti la testolina e non mi voglio andare ragazzi è più difficile del previsto è virgola è virgola riproviamoci ok ok pronta mamma mia quanto è brava questa bimba dammi la mano dammi la mano amore mettiamo la mano ok mettiamo anche l'altra mano no non ci riusciamo a mettere l'altra mano allora 2 hours later e voilà la principessa Elsa è pronta wuuu ma quanto sei bella hai pure la treccia vediamo ehm si se vi state chiedendo perché il vestito è così è perché non riuscivamo a metterlo e quindi l'abbiamo tagliato però lei non lo sa questo sei bellissima una vera principessa del ghiaccio sai cantare let'y go let'y go na la 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 è davvero bellissimo ma per una Elsa che si rispetti C'è bisogno anche di Lo so che è la treccia di Anna Anzi di Elsa Per un Elsa che si rispetti Ci vuole anche un castello di ghiaccio Ed ecco perché Abbiamo qui questo No ma dobbiamo ancora costruirlo il castello Guarda vieni con me Come sapete Elsa per costruire il suo castello Canta e muove le mani Quindi Greta canta insieme a me Lery go Lery go Si sta formando il castello Voilà Non è un castello Eh già non è un castello Aspettate un attimo Mi sento in campeggio A montare la tenda Sempre incendere lo spazio Anzi se questa in realtà non è una tenda normale Ma è una tenda a castello State a vedere Mettiamo questa bacchettina qui Chiudiamo questo qui No 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 Aspetta te la metto subito E il castello è pronto No 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 Devi entrare dentro com'è? è buono il castello com'è lì dentro? è buono ti piace? si mi piace ti metto i cuscini? no no i cuscini mettiamo un divanetto bellissimo i frozen? si? e tu ce l'hai? no no tu non hai un divanetto però tu sei Elsa e sei magica sai fare le magie? le magie fai così e il divanetto comparirà comparirà wow gritta hai fatto la magia c'è un divanetto guarda guarda qui ti piace? è morbido? è morbido è un divano ma ti piace? lo mettiamo dentro il castello? si vai ti aiuto vai mettilo dentro no 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 mettilo tu dai provaci no mettilo tu mettilo tu se mi dà un bacino lo faccio vai oh che carino lo faccio e poi è un divano letto perché si può anche richiudere wow è meraviglioso vai accomodati addio vai vai tutto tuo puoi andare si è addormentata? è comodo? wow sembra morbidissimo posso entrare lì dentro con te? sto meccito no Sophie non credo sia fatto anche per te sei troppo grande infatti non penso ci entriamo ok ciao Greta mi state divertendo? si lei non vuole che sto qua io voglio stare qua è mio nooo mi ha messo il divano hai occupato tutto il suo divano me ne devo andare? ok me ne vado va bene mi ha spinto tutta tua ma abbiamo anche lo squishy cuscino questo è perfetto per dormire Greta guarda qui adesso puoi dormire le è piaciuto tantissimo lui mi sta che stiamo diventando dei babysitter davvero bravissimi sempre più bravi yeah yeah hai spesso di giocare? no ha ricominciato ricorda ancora la prima volta che abbiamo fatto i babysitter è stato un casino salta 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 mamma mia quanto pesa prendi la fredda è pesantissimo è il momento della pappa devi mangiare ti va lo yogurt? no mangiare tu perché devi diventare grande grande dai Greta è il tuo momento mangio 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 non è che adesso sia tanto merito meglio però stiamo migliorando non vuoi più giocare con la tua tenda la togliamo? no non la voglio allora tolgo il castello va bene lo vado a dare un'altra bimba un'altra bimba? no 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 si lo do un'altra bimba che si chiama Graziella va bene lo do a lei lo tolgo non lo tolghi allora ci giochi? si ok togli cosa devo togliere? il besticino ah ok lo togliamo subito mia regina le principesse sono così si stancano facilmente adesso è pronta per scatenarsi nel suo castello che poi devo sapere è che io amo questo castello perché da piccola ne avevo uno identico anzi un pochino più grande delle wings e io serena giocavamo all'interno a fare i fortini dormivamo lì mangiavamo lì con tutte le mie cugine era bellissimo era la nostra casetta guarda soggine guarda soggine soggine io non la vedo ok aiutami oh no stai oh no aiutami ok per fortuna l'ho sistemata aiutami ok ma comunque ti trovo e speriamo anche oggi di essere riusciti a salvare il sorriso cliccate qui per iscrivervi al nostro canale e non perdervi nessuno dei nostri video e cliccate qui davanti a me per vedere il vlog di ieri noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura ciao ciao